E abbiamo ancora una notizia, si è inaugurata a Cagli una mossa di opere grafiche ritrovate nell'abitazione di Walter Magnoni, già allievo dell'Istituto Statale d'Arte oggi chiuso. In esposizione anche una creazione di Maurizio Montini e foto dello studio Duranti. Tutte le opere illustrano i luoghi caratteristici ed i vicoli di un'antica Cagli. L'evento è arricchito anche dalle liriche appositamente scritte da Ninel Donini.